Il regime continuerà, come ha fatto per il passato, a dedicare la sua particolare attenzione agli interessi e ai bisogni delle province peridionali. Voi dovete essere convinti che la marcia su Roma è un avvenimento di incalcolabile portata storica soprattutto per la gente del mezzogiorno d'Italia. E se rappresenta la vera, la profonda, la infrangibile unità morale e politica di tutto il popolo italiano. Che cosa vi chiede il regime? Spirito di iniziativa, obiettività alle leggi e fedeltà in ogni minuto della vostra vita alla causa della rivoluzione e della vita. Spirito di iniziativa, obiettività alle leggi e fedeltà in ogni minuto della vostra vita.